Ben ritrovati a una nuova puntata di Opportunity, la rubrica di 99TV su bandi, corsi, concorsi e opportunità occupazionali offerte dal nostro territorio. Sono indetti presso l'azienda sanitaria locale BT Andrea concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di 12 posti di dirigente medico nella disciplina anestesia e rianimazione, due posti di dirigente medico per la disciplina cardiologia, tre posti di dirigente medico nella disciplina ortopedia e traumatologia. Per partecipare alla selezione è necessaria la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione nella disciplina a cui si intende partecipare. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 4 gennaio 2016. Il testo integrale dei bandi con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi pubblici sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Puglia numero 147 del 12 novembre 2015 e possono essere consultati anche sul sito internet www.aslbat.it nella sezione concorsi e avvisi. L'Università degli Studi del Molise ha indetto una seguente procedura selettiva per tre posti di ricercatore a tempo determinato con le seguenti specifiche. Un ricercatore per il settore concorsuale politica economica presso il Dipartimento di Economia, Gestione Società e Istituzioni. Un ricercatore per il settore Patologia Vegetale presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti. Un ricercatore per il settore Anatomia Comparata e Citologia presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 4 gennaio 2016. Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili all'indirizzo telematico www.unimoll.it L'autorità per le garanzie nella comunicazione ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di dirigente da assumere con contratto a tempo determinato in prova per l'affidamento di funzione di responsabile dell'ufficio comunicazione. Il responsabile dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività concernenti la comunicazione istituzionale dell'autorità e in particolare il rapporto con i mass media. Per partecipare occorre avere un diploma di laurea specialistico magistrale in scienze della comunicazione in relazioni pubbliche o altre lauree equipollenti. L'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti professionisti, almeno 8 anni di esperienza nel settore del giornalismo, nelle strategie di comunicazione e nei rapporti con i media. La data di scadenza del bando è il 31 dicembre 2015. Il bando integrale del concorso è reperibile sul sito internet www.agcom.it Il servizio civile nazionale ha indetto un bando straordinario per la selezione di 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo della Misericordia. Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni che saranno impiegati per un anno in attività di volontariato presso uno degli enti che ha presentato un progetto. I volontari del servizio civile percepiscono una retribuzione di 433 euro mensili e la domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto entro il 17 dicembre prossimo. Non possono presentare domanda coloro che già prestano o abbiano prestato servizio civile, siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani, abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. Per visionare i progetti del bando straordinario per il giubileo si può accedere al sito www.serviziocivile.gov.it sul quale sono anche riportati i singoli bandi. Il Comitato per la valorizzazione della critica letteraria organizza la terza edizione del concorso internazionale premio critica letteraria. Il tema del concorso 2015 è il seguente Pubblici dipendenti, opportunità o fardello? E si svilupperà attraverso la recensione critica dell'opera Fuori procedura, romanzo sulla pubblica amministrazione di Michele Malanca, edizioni progetto Cultura Roma 2013. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2016. I premi del concorso sono così determinati. Primo premio fino ad un massimo di 3.000 euro. Secondo premio fino ad un massimo di 2.000 euro. Terzo premio fino ad un massimo di 1.000 euro. Il bando di concorso è visionabile sul sito www.luis.it nella sezione eventi. Questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata con Opportunity.